E' andata bene, è un po' presto ovviamente per tirare le somme, il rito religioso sta terminando, ora la folla, la folla dei pellegrini, presumiamo che si riverserà sul centro storico ma siamo già in chiusura con la ZATL e quindi crediamo, ci sono tutte le condizioni che le cose si svolgono serenamente. Il flusso segnalato già alla frontiera dei Pullman in arrivo è sostenuto ma insomma nella norma, quindi ci attendiamo quanto previsto per queste ore notturne e soprattutto gli arrivi dei Pullman nelle prime ore dell'alba. Il sistema messo in piedi dall'amministrazione di Roma Capitale sta funzionando, tutti i servizi pubblici che sono in ausilio dei pellegrini venuti per questo grande evento hanno risposto al meglio, svolgiamo della viabilità, alla protezione civile, alla polizia municipale, ovviamente alle forze dell'ordine, alla prefettura che hanno garantito e stanno garantendo lo svolgimento ordinato in queste giornate.